Bene a strizzare l'occhio agli elettori dei grillini perché non dobbiamo dimenticarci che dal mio punto di vista è una tragedia ma se il paese in questo stato al punto di vista politico è perché nel 2018 il 32% degli italiani hanno votato il Movimento 5 Stelle quindi non è che pensiamo che un terzo degli italiani sia completamente pazzo probabilmente c'è un terzo degli italiani che li ha votati anche con delle aspettative, con dei desideri, con delle opinioni che riconoscono non aver avuto un seguito e quindi delle opinioni politiche che devono trovare un nuovo interlocutore quindi bene Salvini fa a parlare a quell'elettorato dicendo guardate che alcune delle vostre istanze le potete trovare nella Lega ma l'idea che ci si possa fare una nuova alleanza con il 5 Stelle io la vedo alquanto improbabile anche perché ci abbiamo provato per 14 mesi, abbiamo lavorato sui punti che avevamo in comune credo che alcune buone cose le abbiamo fatte ma le abbiamo esaurite in 14 mesi perché poi restavano soltanto le divisioni credo che anche la cronaca di questi mesi dimostri quali e quante erano le divisioni quindi anche la retorica del mojito del colpo di sole è durata giusto all'asso di un mesetto perché adesso la gente lo capisce perché abbiamo staccato la spina Molinari dice, dico a Stefano Zurlo